Andata benissimo, i ragazzini, i bambini sono entrati in campo, hanno giocato e i grandi con loro, abbiamo parlato di rugby, parlare di rugby con i bambini significa crescere tutti quanti insieme. Giocare a rugby non è solo giocare, è imparare, imparare a stare al mondo, imparare le regole, imparare a sentirsi, imparare il rispetto e da questo nasce anche un nuovo rapporto con i genitori, anzi il rugby a volte è più importante per i genitori che non per i bambini perché i bambini imparano le regole sul campo, i genitori le ereditano da altri sport che sono cattivi maestri e quindi devono imparare dai figli o attraverso occasioni come queste altri modi. Ecco il rugby è un bellissimo modo per stare al mondo. È stato divertente, i bambini sono stati coinvolti, è stata una cosa piacevole e nient'altro, penso che siano degli incontri interessanti sia per i bambini che per i genitori che per i nostri sponsor. Il rugby sicuramente, non so, almeno per me è stata una cosa di cambiamento soprattutto nella fase adolescenziale, mi ha dato molto, sono riuscito a cambiare in maniera positiva dato che comunque ti forma come un uomo e ti dà molte regole, ti insegna il rispetto, è una cosa sicuramente positiva e consiglio a tutti i ragazzi di provare a giocare a rugby sia per i valori che ti insegna sia per lo sport in sé che amo e quindi venite a giocare a rugby tutto qua.